Ciao a tutti, grazie a tutti e oggi voglio fare un nuovo make up per Halloween, questa è una mia ispirazione. Ho usato per fare metà faccia il fondotinta chiarissimo di base 00, l'altra metà l'ho fatta con fondotinta normale, allora per la parte del tocco con fondotinta normale, ho messo fondotinta e ho colato la parte 3 con il nero, la parte non more, manca il qua, il rossetto e poi l'abbiamo finito. Io ho preferito mettere la matita, faccio vedere, rosso, numero 211 e ora si comincia dalla parte del fondotinta chiaro. E ecco qua tocco la parte normale, qua ho fatto un po' di sbavatura con l'ossetto nero, allora quindi ho usato, vabbè, centino per capelli, c'è la parte da stella e il fondotinta che abbiamo fatto vedere già, paretto, corneo, poi rossetto nero liquido, che ho spoccato anche, trucco facile, dai scordiamoci, invece per la parte, non male, piccola, piccola umberto, che c'è il nero e il grigio chiaro, se lo dia, corato, poi invece per qua vi faccio vedere la matita rossa, con l'ossetto rosso numero 07, effetto matte della Deborah, e la cocco qua, ci vediamo al prossimo video.